Cosa ti aspetti da Babbo Natale? Io che mi regali un mazzo di carte. Un mazzo di carte? Sì, perché mi piace la magia e quindi vorrei un mazzo di carte. Cosa vorrebbe lei Babbo Natale da un altro Babbo Natale? No, non lo so. Pace per tutti, tranquillità e salute. Grazie. Firenze stasera si illumina dietro a me l'albero a Palazzo Vecchio illuminato, poi quello di Piazza Duomo e in contemporanea tutti i Lungarni, in particolare il bellissimo Ponte Vecchio. Abbiamo voluto dedicare questo Natale all'alluvione, di cui abbiamo celebrato 50 anni, perché Firenze ha sofferto molto, ma è risorta grazie all'amore e al sostegno di tutto il mondo. E come 50 anni fa Firenze si risollevò, ogni giorno noi vogliamo con gratitudine ricordare quanto sia importante avere una comunità forte, solida, dove i rapporti umani sono la base di ogni cosa. Questo è l'augurio più bello che diamo per questo Natale, per la tradizionale accensione dell'albero, in compagnia dei Babbi Natale, a cui rivolgiamo un grande abbraccio, perché ogni anno con le loro iniziative fanno beneficenza per tante persone. E adesso ci siamo spostati vicino a Ponte Vecchio, vedete che gioco di luci che c'è, che cambia in continuo. È uno spettacolo meraviglioso, tutti sono qui a guardarlo. È qui a ammirare questo gioco di luci sul Ponte Vecchio? Sì, effettivamente. Che l'emozione le dà. Bellissimo.